Volevo sapere il suo rapporto tra la fotografia e la moda. Il rapporto tra la fotografia è eccellente, con la moda un po' meno. La moda si fa per guadagnare dei soldi e poi la fotografia c'entra un po' di striscio con la moda. Le fotografie moda servono per vendere dei vestiti, poi ogni tanto ne capita una che ha un valore suo. E secondo lei come si è evoluta la fotografia adesso oggi nel campo della moda con l'avvento dei media? Ma io credo che è finita un'epoca e se ne aprirà un'altra, almeno spero, perché i media tradizionali in moda sono scomparse, stanno per scomparire, sono agonizzanti e non sono fatti come gli faceva una volta. Sicuramente rinascerà su internet in altri formati, in altri modi, perché, insomma, poverini, loro i loro vestiti dovranno continuare a venderli, quindi in qualche modo faranno qualcosa, spero per loro. E' il rapporto tra la fotografia e la sua città? Palermo? Ma città di Palermo? Io penso che è una città così bella, ho avuto la fortuna di nascere qui circondato da cose belle, quindi penso che mi ha molto aiutato questo proprio di essere Palermo, perché è la più bella città del mondo. Io nasco come musicista di jazz, architetto, facevo sempre tante cose, poi ho deciso di fare un po' per cazzo. Non si poteva fare tutto, capito? Quindi a un certo punto ho scelto la fotografia. Forse pensarci ora è stato un errore, mi avevo dovuto fare l'architetto, quindi è andata con me. Una prossima vita da di Berlano.